Grazie, vorrei chiamare la professoressa per consegnare appunto l'attestato di partecipazione. Ora dopo questo lavoro si può fare la parola al nostro segretario generale dell'ospedale Toscana, Daniela Mappelli. Allora, vi buongiorno a tutti, ora io approfitto di 5 minuti per la vostra pazienza, perché stamattina mi chiedo per favore tranquillità per 5 minuti. Stamattina io ho sentito molti dei vostri insegnanti che ringraziavano lo SPICIGL. Mi è venuto di chiedermi, sanno tutti chi è lo SPICIGL? Allora, lo SPICIGL è il sindacato pensionato italiani. Il sindacato pensionato italiani della Toscana stamattina ringrazia tutti, ringrazia voi ragazzi, ringrazia gli insegnanti, i docenti che ci hanno accompagnato in questa avventura. Io stamattina vorrei ringraziare anche Claudio, che ha seguito il lavoro in tutto quest'anno. Si conclude, come vi dicevo, anche l'attività di quest'anno, ma noi continueremo, non ci fermiamo. Continueremo anche se, proprio perché siamo il sindacato pensionato italiani, avete visto come spesso ci disegnano fuori. Noi si sarebbe quegli anziani egoisti, che toglierebbero il futuro a giovani, che si ruba in qualche maniera anche la pensione, che non si pensa al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, sa anche un altro vizio, che è quello di vivere un po' troppo a lungo. Ci addebitano anche questo. E quindi con la nostra pensione si provocarebbe il disastro di questo Paese. Molto più semplicemente noi si dice che siamo delle persone anziane, che hanno finalmente una pensione frutto di tanti sacrifici e di tanti anni di versamenti e di contributi. E qualche volta con quella pensione aiutiamo anche le difficoltà delle famiglie, che magari dove molti dei loro figli sono rimasti o senza lavoro hanno delle difficoltà. Nella nostra attività con le scuole noi abbiamo collocato sia questo impegno qua, ma anche quello della memoria sui valori, che sono poi i valori fondanti di questa società. E che vogliamo, come quello di quest'anno, sviluppare insieme a voi. Perché pensiamo che solo attraverso la promozione dell'educazione contro il crimine e la corruzione possiamo pensare di migliorare la qualità della vita di tutti. Ora noi sappiamo una cosa, siamo convinti che i giovani siano più sensibili agli esempi di vita. Tradotto, seguono meglio i testimoni che non i maestri. Un maestro sale in cattedra, indica una via, devi andare per quella strada. Un testimone ti indica quello che ha fatto, l'esempio te lo dà personalmente, quindi ti contrapponi peggio al testimone. E noi, come adulti, anziani, si cerca di essere quanto più possibile credibili e testimoni della vita che abbiamo fatto e delle esperienze che abbiamo fatto. Voi non ci crederete, perché io ho una nipote, anch'io, glielo dico sempre, non ci crederete, ma noi non siamo nati anziani, eh? Cioè, siamo nati giovani come voi, eh? Esattamente come voi. E conosciamo la vostra voglia di lottare, di lottare per la legalità, per i controsocclusi. Noi siamo convinti per questo, che possiamo fare insieme una grande alleanza per la legalità. E in questa alleanza fare un lavoro di inclusione, qualcuno di voi nei lavori l'ha messo, cioè includere le diversità non è un pericolo, ma è una ricchezza. Anche noi ci siamo chiesti, prima di cominciare questo percorso, quale fosse la percezione e il rapporto di voi giovani generazioni con la legalità. Quale percezione aveste del fenomeno, per esempio, della mafia, della corruzione? Noi sappiamo, ma lo vedete anche voi, che stiamo assistendo a una grave crisi della legalità. È venuto meno il sistema dei valori, il senso etico delle persone. E anche tutte le notizie che passano attraverso mezzi di comunicazione ci rimandano spesso dei cattivi esempi che poi portano a cattive imitazioni da questo punto di vista. E purtroppo, io a me l'ha fatto, io ho seguito attentamente i vostri lavori. Alcune cose ci vorrebbe tre giorni per discutere, perché sollecitano anche le nostre rivalutazioni. Ma anche alcune cose che avete scritto sulla mafia, su quel questionario sulla mafia, fa riflettere un po' tutti. Perché molto spesso, anche gli adulti, avete sentito quando parlano di questi argomenti, dice, ma lasciamo stare, non ci si può fare niente, tanto la lotta alla mafia la deve fare la polizia e la magistratura. Guardate che così si corre il rischio che questa attività sia in mano a pochissime persone e la società nel suo insieme non si assume le responsabilità che invece dovrebbe assumersi. Come avete fatto voi stamani, come avete fatto voi con i vostri lavori. Allora, il problema è vero e ve lo dice chi, come me, da anni sta seguendo questo tema anche perché ci siamo impegnati nei campi di lavoro sui beni confiscati alla mafia. La mafia, voi avete parlato della mafia per quanto riguarda l'alimentazione, l'agricoltura, eccetera. La mafia è subtola, è cambiata profondamente negli anni. Prima, per esempio, si parlava di mafia per la distribuzione della droga, per la prostituzione. Oggi la mafia si è evoluta, oggi la mafia lavora molto sugli apparti, ne avete sentito parlare, molto. E si insinua, si insinua nei gangli della nostra società. Non possiamo pensare che la mafia e la camorra sono problemi del sud perché li abbiamo a casa. In Toscana ci sono più di 80 beni sequestrati alla mafia. Questo significa che noi la mafia l'abbiamo in fondo alle scale. E questo non ci può far pensare che noi possiamo lavarci nelle mani. benvengano i vostri lavori, benvenga l'interesse dei vostri insegnanti. Anche perché io mi fa piacere perché tempo fa ho assistito a un'intervista di alcuni ragazzi siciliani.